Esplosione alle prime luci dell'alba accesa nel comune di Marciano della Chiana. Ladri prendono di mira il bancomat della filiale del Monte dei Paschi di Siena e fuggono con il bottino. Il bancomat si trova all'altezza del quadrivio sulla regionale 327 nel centro del paese. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che stanno conducendo le indagini, il fatto è accaduto alle 4 di questa mattina, quando un forte boato ha svegliato i residenti di Cesa. I ladri sono entrati in azione e una volta fatto saltare lo sportello, lo bancomat si sono dati alla fuga con il bottino. I carabinieri hanno compiuto rilievi scientifici per accertare se i malviventi abbiano lasciato tracce sul luogo dello scoppio. La filiale si trova in un luogo abitato, ma per fortuna l'esplosione non ha causato danni alle palazzine della zona. Durante la fuga i malviventi hanno perduto alcune banconote lungo la strada. Non è la prima volta che gli sportelli bancomat della zona sono stati presi di mira dai ladri. Ricordiamo per esempio i colpi compiuti in passato a Foiano, al Borghetto e ancora a Cesa nel 2016. Grazie. 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 Grazie.